Per un attaccante segnare è sempre bello, poi dopo un periodo di infortunio sono ritornato e ho fatto subito il golo che poi ha portato comunque un punto, quindi sono felice e sono contento per questo. Il sabato abbiamo fatto comunque una buona partita contro una squadra che i risultati parlano che non ha mai perso in questo campionato e si è vista che è squadra aerea, che comunque ti aggrediva, non ti faceva giocare, poi è venuto un gol un po' sfortunato perché comunque non hanno fatto niente di particolare, poi è successo il gol e poi siamo stati bravi a recuperare, quindi va bene così. Comunque per l'attaccante in una squadra l'attaccante è sempre un ruolo importante perché comunque è quello che deve fare il gol e quello che ti può portare i punti. Sicuramente credo e spero che posso dare una mano alla squadra sia nel campo che fuori al campo, poi la squadra come ha fatto vedere comunque ha fatto dei risultati anche senza me, sono contento che sono un importante, però comunque siamo una squadra che ognuno di noi può dare tanto. Io non conosco la Pistoese perché non l'ho mai vista giocare, però io mi aspetto che comunque la squadra arriva carica per fare risultati perché comunque siamo, credo, in un buon momento e bisogna dare continuità ai risultati perché è importante per noi.